Allora amici e amiche di Vidi Casagiove, finalmente ci siamo e abbiamo l'onore di avere tramite Skype il presidente del fans club di Rino Gaetano, Edio Scarola. Edio, un saluto! Sì, saluto tutti quanti i miei fans, che alla nostra non è una pagina ufficiale, questo lo dobbiamo specificare perché alla famiglia ha una pagina ufficiale che è curata da nipote. Perché noi non è che ci siamo distociati, perché ormai io penso che Rino non ha più bisogno di grandi... ormai è conosciuto da tutti, diciamo che noi siamo quelli che portano... Io mi faccio promotore della cultura di Rino, cioè di quello che ha fatto conoscere alle nuove generazioni la cultura di Rino, no? Cioè, come è stato anche l'incontro con Michele Papà, un autore rosso locale, un bel personaggio. Anche perché la famiglia non è che resti, è per carità, però giustamente ci sono anni e loro hanno un... Adesso ci sono in bucina, mi sembra che hanno fatto un museo, c'è una OVUS che si occupa di... Poi c'è la sorella di Rino Gaetano, Anna Gaetano. Anna Gaetano, sì. È una mia carissima amica, oltretutto, che cura appunto l'arte di Rino Gaetano. Anzi, se non era per lei, io penso che Rino stava nel dimenticatoio come tanti artisti scomparsi. Penso proprio... Hai detto delle belle parole, Elio. Di queste ne parleremo in un secondo momento. Però la prima domanda che io ti voglio fare... Com'è nata la tua amicizia con Michele Papale? E ascolta, tu hai scritto una bella frase sulla recensione di Percorrendo, l'album di Michele. Cosa ti ha colpito della musica di Michele Papale? Beh, io adesso mi faccio riferimento prima al percorrendo di Michele Papale, ma io penso che ognuno di noi, no? Chi cangeva i troppi ricordi, cangeva la propria personalità, perché a chi non è mai capitato ad esempio di attraversare una strada, di pensare in quel momento di essere in un determinato posto, di determinare a dire... A me mi hanno detto, faccio un passo indietro, vivi troppi ricordi. Ma no, a me preferisco vivi, ricordi che la vita si basa anche di questa, con una certa personalità, no? Io ti voglio soltanto ricordare come ho conosciuto, poi che ci ritorniamo magari, come ho conosciuto Michele Papale. Ci stiamo sentiti per tenersi virtualmente, ci siamo stati chiusi, avevamo visto delle immagini del Bialano, di Roma, dove tutti suonavano, questa chitarra... All'altra parte mi chiede, se vuoi venire, puoi fare anche tu una magia rena, basti che viena al Bialano, un monumentale... Ma veramente, posso fare una robasina? Ho fatto voi, ma c'è... E' venuto, è portato la chitarra al concerto, ci siamo ritrovati, ci siamo conosciuti, siamo a tanti altri fans, regali, due giugno, stavano raduno, diciamo, dove vanno i fans, e lui è cantato, tutto emozionato, davanti alla tomba del cantante, no? La sorella lì tiene un tavolino, c'è un tavolo con un quaderno, un quaderno dove ognuno fa una dedica al cantautore, scrive un pensiero, chi porta una rosa, una rosa rossa, chi... Addirittura della birra, una birra in lattina l'ho lasciato, no? Perché lui, in alcuni suoi testi, parla del bar del Barone, che lui lì non abbiano frequentato, nel quartiere Montesabro, no? Beva birra chiara in lattina, perché, non lo so, lui preferiva la birra chiara, cioè... E ogni cosa che parli ferimento alla sua arte, alla sua... I fans portavano questo pensiero, l'hanno messa lì, non lo so, è una cosa carina. E Anna a casa ha un museo, perché ha migliaia e migliaia di quaderni con tante bellissime leggi. E poi, dopo, che è successo? Che Michele Papallo, a un certo punto, disse, sai, sarebbe bello fare un qualcosa, proprio per questa giornata, e scrisse un bellissimo brano che si chiama Puntorino. Sì. Questo brano che ha avuto, sai, poi lui, essendo un indipendente, non è legato a nessuna etichetta discografica, perché Michele è così, no? Sì, e questo è importante. È importante. L'abbiamo, guarda, lui me la fece sentire per il telefono. Quando l'ha sonato, la fece di telefono, sentire che dici, va bene. Ecco, questa è la grande amicizia, cioè fatta per telefono, addirittura. Fece questo testo, perché fa questo brano dove, non so se tu hai avuto un modo di ascoltarlo... Lo ascolterò fra un po' nella seconda parte dell'intervista. Dopo, dopo, io ho fatto più o meno un video su foto, su tutti i fanci che sono lì. Io penso che nessuno muore che veramente vive nei propri ricordi. Io penso che Rina era ormai fredd immortale, ma, cioè, penso che ha colpito, secondo me ha colpito ancora, no? Perché ha creato dei personaggi, ha creato delle emozioni che sono veramente... Profonde. Profonde. Io penso che tutti alla vita possono chiedere di più, ma non lo fanno per paura di morire così. Questa è una citazione di Rino Lettano, no? E questa è una bellissima frase, Edio, permettimi se ti interrompo, molto profonda con tanti significati, Edio. Bella, bella davvero. È la prima volta che sento una frase del genere e mi fa enormemente piacere scoprire un lato di Rino Lettano che io non conoscevo, perché io non ero ancora nato quando ha subito l'incidente automobilistico, però hai detto una bella frase ricca di significati, Edio. E poi c'è da dire che la sua arte negli anni settanta non era capita, perché allora la gente magari non era ancora pronta per questa... Perché lui diceva frasi per me nelle sue canzoni incomprensibili, no? Ho capito. Con la voce antropomorfica dell'uomo di automobil, un nastro registrato a cento piste, cioè, a me mi dicevano, ma tu come fai ad ascoltare queste canzoni? Forse perché sono più indialicente, non credo. A me piaceva la sua arte, cioè... E sono andato avanti così negli anni, senza mai fermarmi, senza... Tante generazioni nuove hanno conosciuto Rina attraverso me. Prima dell'avvento di Facebook io avevo un sito internet che si chiamava appunto la vecchia salta con l'asta, questo sito internet, e parlava di un paese nato e parlava anche di una grande altra cantante scomparsa che è Mia Martini. Ah, la grande Mia Martini. E poi dopo con la venda di Facebook, basta, l'ho chiuso col sito perché non avevo nessun senso perché non... Senti Elio, belle parole. Un'altra domanda, Elio. Abbiamo parlato quindi di come hai conosciuto Michele Papale e di che cosa ti ha colpito di Michele. Elio, i tuoi rapporti con Anna Gaetano? Sono ottimi, sono buoni. Senti Elio, un'altra domanda ancora. Se ne sono dette tante di Cotte e di Cotte, che non ho avuto modo di sentire perché ho avuto un po' di problemi sui personali, giustamente, che ne stiamo all'ingarmi, che sono così non con me, assolutamente no. Io ho buoni rapporti con la famiglia di Michele. Sono ottimi i rapporti. Sì, sì, ottimissimo. Ottimi. Senti Elio, un'altra domanda ancora. Se ne sono dette tante di Cotte e di Crude sulla morte di Rino Gaetano, ma un tuo pensiero sulla morte di Rino Gaetano, il concetto della massoneria, è vero tutto questo? No, io non credo alla testa del complotto. Non ci credo. Senza andare in dissenso con coloro che hanno scritto dei testi, perché ci mancherebbero. Hanno scritto dei libri. Non vado. Senza andare in dissenso. Non mi trovano d'accordo. Perché magari... Io sono d'accordo con la testa della famiglia. Perché proprio il nipote, Anna, a me da età, ha un amico, ecco, un amico importante di Rino Gaetano, che è stato in collegio insieme. Così può dare l'opposizione di salutarlo, che si chiama Domenico. Lo saluto anch'io, eh. Lo saluto anch'io. Lo saluto anche Michele. Tu Michele lo conosci benissimo, sai che... Io lo saluto anche a casa mia. Sì. Questa testa non la parla per nulla. Cioè non crea questa teoria della massoneria. Ho capito. D'accordo che Rino era avanti del tempo, diceva cose che magari... Però non si può dire che è stato così da ucciso, analizzando i testi. Diciamo che era un po' anticonformista. Era un po' anticonformista. Era un po' anticonformista. Cioè la gente magari si è basata anche su un test che si chiama la ballata di Renzo, no? Sì. Michele ne sa qualcosa. Ciao vedi, dici, allora lui sapeva già della sua morte. Ma non è così. Ho capito. Ho capito. Ho capito. un po' anticonformista per… Cioè non si può assolutamente… Incidenti stradali, c'era una bizzezza di Giorno. Quindi purtroppo… Diciamo che sia allora lui aveva le cinture di sicurezza, magari tutto… Che allora non c'era, da quel tempo. Non lo so. poi sai che cos'è che non credo in questa cosa pure lui non è che stava andando tutte le notti tutte le sere nello stesso posto mi girava quindi come si può arrivare allo stesso tempo allo stesso minuto a fare qualcosa per farlo? no Elio, ti aspettiamo a Casagiove sì senti Elio, per chiudere i tuoi saluti ai lettori e ad elettrici di Vivi Casagiove e un saluto particolare a Michele, dai guarda io a Casagiove che innanzitutto lì ha un grande canto dottore che farà sicuramente tanta strada ed è Michele Papallo perché io abbraccio la sua arte percorrendo un brano bellissimo perché vedere le cose con gli occhi della mente non è, forse da tutto forse non tutti se ne accorgono cioè a chi non è mai capitato di sentire un brano, una canzone uh questa canzone mi ricordo quando ero con quella persona in un determinato posto ecco questa è la cosa che io voglio dire di Michele cittadini e magari di fare un'altra lì un giro e magari conoscerne meglio voi ecco aspettiamo di parlare meglio di Rino della cultura perché ripeto Rino non ha bisogno di tanta città senti Elio io ti aspetto a braccia aperte e un piacere è stato averti qui con noi di aver raccontato tutta questa piccola storia di Rino e ti ringraziamo organizziamo un concetto qui con l'aiuto anche di Vivi Casagiove ecco diceva Michele con l'aiuto di Vivi Casagiove speriamo di fare un evento dedicato a Rino vorrei anche chiudere con una frase che la tomba è un epitaffio che adesso purtroppo la sua tomba è stata diciamo depredata è stata depredata che c'era un bellissimo chitarre di Marino di Marino un marmo pregiato che rubarono a loro parlo c'era scritta questa frase che è veramente carina sognare la realtà vivere un sogno cantare per non vivere niente ma riuscire a essere più pronto ecco questa è una frase che presumo sia di Rino veramente dice tutto di lui perché allora era tutto pronosticato lui andava sempre avanti lui vedeva oltre Elio io ti mando un bacio e ti saluto su questa frase ciao grazie a te Elio ciao ciao ciao